Dettore, è vero che bisogna incontrarle tutte quest'anno in Serie D, però la prima domanda riguarda l'ultima giornata di campionato, quel Teramo-Ancona in cui già i tifosi teramani sognano di potersi giocare il campionato. Io mi auguro di no, che arriviamo a quella partita già con i conti fatti, sia da una parte che dall'altra. In ogni caso voglio dire, prima di pensare all'ultima giornata, secondo me ci sono tante partite prima che sono altrettanto importanti e che vanno affrontate con attenzione, per questo è un campionato difficile. Un inizio tutt'altro che morbido, si ricomincia da lì, esattamente da lì dove il Teramo ha finito, in casa con la Civitanovese. Sì, si rinizia dalla Civitanovese, che sicuramente è una squadra attrezzata, così come tutte le marchigiane saranno squadre attrezzate, le molisane conosciamo, la Bruzzesi pure. Secondo me è un campionato, come ti ho detto prima, difficile, su tutti i punti di vista, quindi sicuramente Civitanovese sarà uno scoglio importante, i Sernia dopo sarà sicuramente un altrettanto scoglio importante, poi c'è il Sant'Eggio, quindi se uno va a vedere le partite presentano tutte le stesse insidie. L'anno scorso la sorpresa venne dalle Miglia Romagna, quest'anno quale potrebbe essere la regione da cui uscirà la sorpresa? Io mi auguro l'Abruzzo, perché vuol dire che in ogni caso ci siamo noi, però voglio dire, l'anno scorso il Sant'Arcangelo sapevamo che aveva, che aveva una squadra forte, perché in ogni caso erano quattro anni che raggiungevano risultati importanti, logicamente conosciamo il Rimini che era una squadra attrezzata come il Teramo per fare bene e tante altre. Quest'anno vengono meno queste squadre, ma sicuramente ce ne sono altre perché basta guardare i nomi, quindi sono città e società blasonate come lo può essere Teramo e quindi il campionato secondo me è veramente duro.